Il bano mette la parola fine su Romina e le nozze. Albano Carrisi mette la parola fine sui gossip riguardo la sua relazione con Romina Power. E lo fa in televisione. Albano Carrisi mette la parola fine ai pettegolezzi riguardo il ritorno di fiamma e le presunte nozze con Romina Power. Da qualche tempo la coppia di Felicità è tornata al centro del gossip, dopo che Albano ha definitivamente chiuso la sua storia d'amore con Loredana Recciso. La showgirl pugliese è scomparsa dal suo fianco e in tanti hanno sperato che i due ex coniugi potessero tornare insieme. Una speranza alimentata anche dalle parole di Romina Power, che ha sempre confermato di provare forti sentimenti per il cantante. Nella sua ultima intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, l'attrice americana ha spiegato. Amerò per sempre Albano. Una vera e propria dichiarazione d'amore a cui l'artista di Cellino San Marco ha risposto durante la sua partecipazione al Piambre T-Matrix. Rimango senza parole perché secondo me sentimenti così forti sarebbe importante tenerli dentro a spiegato, ma il mio pensiero non corrisponde a quello di Romina. Però è meglio parlare di amore che dell'odio che popola le cronache. Albano è poi tornato a parlare dell'intesa ritrovata con l'ex moglie. Io non mi fidavo per niente di Romina e di quello che stava dicendo. Ha confessato parlando del loro primo concerto insieme in Russia, dopo liti e conflitti. Era la prima volta dopo 19 anni che tornavamo a calcare lo stesso palco. Ero diffidente, ma mi sbagliavo. Il cantante non ha nascosto una certa insofferenza riguardo i gossip sul triangolo amoroso con Romina Power e Loredana Lecciso. Non lo capisco, tanto, tanto interesse e non mi piace così tanto ha detto, il giusto che è, ma tutta questa masnada di copertine è troppo e troppo storpia. Infine Albano ha commentato in modo enigmatico alcune affermazioni della madre Yolanda, che secondo molti erano rivolte all'Alecciso. Ha parlato di donne e donne e ha ammesso, le donne sono quelle che non meritano rispetto. Ha parlato di donne e donne e donne e donne le nomi. Grazie a tutti.